Paolo, abbiamo visto che sul tavolo stai degutando un bicchiere di ripasso Regolo. Ci vuoi parlare di questo prodotto? Certo, Regolo, che è il nome del nonno, della seconda generazione della nostra azienda, rappresenta uno dei prodotti di punta della cantina ed è un bel pomicella superiore, ripasso. Ripasso significa che nel fase di sminamento il mosto viene fatto rifermentare sulle vidacce della Marone e questo è da origine un vino molto importante che ha un sviluppo a 13 gradi e mezzo ed è uno dei fiori all'occhiello della zona e della nostra cantina.